Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente su Poké Caffè, buon giovedì a tutti Ieri non è uscito video, è uscito il Poké Caffè delle 7.30 Oggi esce un discreto Stranger Teams che vi invito ovviamente a gustarvi dalle ore 14.30 in poi Adesso però andiamo a parlare un po' dell'argomento del Poké Caffè odierno È una leggenda ragazzi, una di quelle leggende che passano attraverso il corso e il decorso degli anni E che forse ogni anno che passa va aumentando nella sua mitologia Stiamo parlando ovviamente di un ricordo, di qualcosa che è molto personale Perché si parla del lontano 2006, primo Pokémon Day, non primo Pokémon Day in assoluto Il primo Pokémon Day di Ravenna si tenne nell'estate del 2005 Quindi secondo Pokémon Day in termini proprio di manifestazione Primo per quanto concerne la presenza mia e degli altri amici del Team Aqua Che ancora Team Aqua non c'era Gli altri due ragazzi, Nicolas e Joelle Che insomma saluto e che ormai in questi Poké Caffè mi avete sentito nominare davvero tante tante volte Specialmente quando facciamo per l'appunto la puntata Poké Caffè sul Pokémon Day Che se non vi siete andati a vedere andatevi a guardare Vi avevo promesso in tale puntata che vi avrei raccontato Come ci proponemmo a quel primo, primissimo Pokémon Day Non c'era internet, lo abbiamo detto E noi portammo qualcosa che sostanzialmente non potevamo aver testato Non c'era showdown, non potevamo poter andare a testare le nostre idee competitive La nostra strategia di gioco con qualcuno online Non potevamo soltanto far sì che lo potessimo provare l'uni contro gli altri Ma insomma voi sapete anche le difficoltà nel testare qualcosa che ha un notevole effetto sorpresa Conto persone che già sanno chiaramente cosa voglia fare tale strategia Anche perché chiaramente gli altri ragazzi, Nicolas e Joelle, erano ideatori Così come lo ero io della strategia in essere Sto parlando ovviamente del team che avremmo dovuto e voluto portare Che poi abbiamo portato di fatti ai tornei del Pokémon Day Perché il Pokémon Day era sì una manifestazione Dove si poteva anche andarsi a godere tranquillamente tre giorni a Ravenna e in Salza Pokémon Ma dove c'era, qualora uno volesse anche mettersi alla prova I tornei ai quali allora, udite udite, c'era davvero dei grandissimi premi Ora vi dirò a fine poche caffè Quando andremo poi con l'apice del racconto A raccontarvi anche come andrà la finale di uno di questi tornei Vi spiegherò anche quali fossero tali premi Insomma faremo anche un paragone con oggi Se vogliamo essere proprio puntigliosi Noi ci presentiamo questo Pokémon Day 2006 Con questo Snorlax con autodistruzione Ve l'ho raccontato in maniera molto limitata Spesso e volentieri Il motivo per il quale Snorlax è il mio Pokémon preferito È stato il Pokémon che abbiamo portato E che quindi anch'io ho giocato Al primo torneo veramente competitivo Che rispettava allora già le regole di VGC Che non si chiamava ancora VGC Ma insomma rispettava le regole ufficiali Noi ci portammo questo Snorlax con autodistruzione E badate bene, all'epoca autodistruzione Snorlax non la imparava E allora direte voi Ma avete citato? Avete barato? No! Semplicemente ci comprammo apposta ad hoc il Gamecube XD Gale of Darkness Anche questa è una cosa che vi ho già detto Per poter insegnare a Snorlax autodistruzione Noi ci presentammo quindi a questo torneo Con Snorlax che esplodeva Jengar che esplodeva Jengar immune all'autodistruzione di Snorlax Dusk Noir sempre di XD Con Helping Hand e autodistruzione Da fare poi con Snorlax E mano a mano andammo a scalare Sempre ogni turno Arrivando sempre in finale E azzardo quell'anno lì A vincere addirittura sempre Tutti i tornei del Pokémon Day Ok Il livello non era quello che vi immaginate Non era questo granché Però badate bene C'era qualche giocatore Due, tre giocatori Che sapevano davvero la loro Fra i quali ricordo Un simpaticissimo personaggio Che adesso Ricordo con davvero molta simpatia All'epoca Usando un eufemismo Diciamo che non ci volevamo troppo bene Perché voi sapete Quando si è innanzitutto Un po' più ragazzotti C'è della competizione di mezzo E si è i due sostanzialmente Che se la giocano Per vincere sempre le finali di tornei Non può esserci spesso e volentieri Questa grande simpatia Io ovviamente sto parlando Fra i due Intanto due poli Quindi lui contro di me O lui contro Neolas O lui contro Giovele Non è che c'ero io Pardini uberaless Assolutamente no Questo ragazzo Che faceva anche allora Dei video Pensate voi Poi quando venne Diamante e Perla Su YouTube È stato Se vogliamo Il primo Canale competitivo Per quanto riguarda I Pokémon Assolutamente sì Metteva solo i video Dove vinceva Ma questo è un altro discorso E quindi Noi ci troviamo in finale A questo Pokémon Day 2006 Giovele si trovò Per la precisione in finale Contro Questo ragazzo Si faceva chiamare Mister Pokémon Che saluto Se seguo il canale E è rimasta davvero Nelle annali La leggenda appunto Che vi sto a raccontare oggi Che E Giovele Fece detonare Il suo Snorlax Andò su Premette autodistruzione Andò Direttamente Di questa mossa Pure helping hand Tirò giù Ambe due I Pokémon Dell'avversario E questo ragazzo Che giustamente Magari non si era Documentato Fino in fondo Pensava che Snorlax Non potesse imparare Autodistruzione Poi appunto Eravamo in un periodo Dove Beccare al torneo Quello che citava Era anche molto facile Andò dritto dritto dagli arbitri E A Andare a lamentare Di un presunto Atto di cheating Da parte nostra Poiché Snorlax Non poteva Imparare A suo dire Tale mossa Quindi Andando anche a parafrasare Il gergo E Proprio citando Il tono E il dialetto Non si può usare A Boom Lax In realtà Insomma Questa cosa ci fece Un po' ridere E Niente Lorbel di turno Sempre molto documentata E professionale Se no In realtà È una mossa prendibile Da XD Quindi Se vuoi continuare La partita Devi continuarla Avendo perso I tuoi due Pokémon E per il resto Insomma Andiamo avanti È storia Io vi volevo raccontare La leggenda di Boomlax E questa insomma Con questa leggenda Qua del 2006 Con questo Snorlax Con questa citazione Famosa Nell'ambito del competitivo Di vecchia Vecchissima data È sempre stata Una chicca Da tramandare Ai nipoti Insomma Avevo piacere A raccontarvela Nel Del Pokécaffè Avete avuto voi Una strategia Molto particolare Con la quale Magari avete Debuttato A un torneo ufficiale Domanda Ve lo chiedo Aspetto risposta Nei commenti Nel frattempo Vi invito a mettere Mi piace A commentare Ve l'ho già chiesto E ad iscrivervi Al canale Se ancora Non l'avete fatto A quanto pare Il periodo Per quanto riguarda Pokémon Sta per farsi Molto interessante E caldo Non solo dal punto Di vista climatico Perché dovrebbero Arrivare Presto degli annunci Quindi Vi consiglio Di mettere Una bella iscrizione A questo canale Perché se ne vedrà Sicuramente Delle belle Anche per commentare Magari su Pokécaffè Tali leak Oppure Novità Che ufficiali Che siano Io adesso Davvero concluso Boomlax chiude Vi saluto